carpenteria metallica centese azienda leader nella lavorazione del metallo lavori di carpenteria metallica taglio a laser piegatura funzionatura e roditura in cnc con la massima precisione e qualità tanto lavoro ma anche tanta passione via nazario sauro numero 3 telefono 051 683 5851 impresa merighi 100 opere d'urbanizzazione asfalti e pavimentazioni in autobloccanti impianti fognari e depurazioni acque via stradellazzo numero 3 telefono 051 683 6103 merighi tanta passione per il lavoro sempre a canestro studio fava commercialisti e avvocati a 100 in via della canapa 54 non basta essere dei campioni per vincere serve professionalità disponibilità e cortesia qualità dei servizi e dei prodotti cercolor a finale miglia e tutto questo pavimenti rivestimenti arredo bagno stufi e accessori per la tua casa delle migliori marche c'è la sarda panaria abk cotto d'este i talgraniti porcellanosa glam stufe e cammini e tanti accessori il fondatore andrea filippini e lo staff di cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa febbrili sono stati preparativi ogni componente dello staff organizzativo è impegnato finché ogni cosa sia al suo posto perfino il trick track se movente con il quale portano gli ospiti sul palco deve funzionare a dovere ecco partita il giorno 15 luglio la quarantesima fiera delle per di renazzo e si ferma il 18 luglio in mezzo tante cose ne parliamo con francesca guidetti dello staff organizzatore chiamata anch'essa sul palco a presentare gli spettacoli per tutta l'edizione e tenere compagnia francesca sono oggi ospite la band musicale liga busi e dopo sapremo il perché di questo particolare nome che si sono esibiti sul palco il giorno 13 luglio nell'anteprima della fiera e vi mostriamo qualche spezzone dello spettacolo il tutto è moderato da marco carlucci poi alla fiera delle pere è possibile fare particolari incontri ma vediamo di cosa si tratta vediamo due balli giovanotti con una bella birra in mano perché qui c'è uno stand di birra veramente la prima della sera questa è una vera birra fatta made in renazzo allora cosa vi ha spinto ad arrivare qui a renazzo? 300 cavalli della mercedes ci hanno spinto fino qua a non la birra perché doveva venire a piedi vabbè un chilometro si poteva anche fare no ci ha spinto il fatto che questa sera c'è questa aspettando le pere con queste due new entry questi due presentatori nuovi la guidetti e l'altro non mi ricordo come si chiama marco qualcosa direttamente dalla rai di pilastrello vabbè insomma la cosa era interessante insomma ragazzi allora vi sta soddisfando questa questa nuova edizione abbiamo appena cominciato questa aspettando le pere che non ci sono ancora viste le pere poi non pensate male le pere sono pere quelle che si mangiano noi aspettiamo anche le pere vediamo che andarono a 10 si vedrà qualcuno anche qualche pere esatto del fatto che qui la chiamano feste delle pere le pere non le vediamo non se ne vedono ma è normale che sia così è la festa delle pere abbiamo già mangiate tutte renazzo number one dovrebbe essere un comune renazzo ma non un'apparazione troppo dici credo che siamo felicissimi di essere qua per un altro anno anche l'anno scorso mi ha fatto il quinto compleanno della band e un sacco di musicisti che hanno sionato con noi negli anni esatto perché nell'anno degli anni abbiamo cambiato un sacco di musicisti il primo concerto dei Liga Bugi della nostra band è stato fatto in questa stessa location il 15 di luglio del 2010 ascoltate ma da dove nasce il nome Liga Bugi? beh insomma io mi chiamo Bugi facciamo un tributo a Liga Bugi? facciamo un tributo a Liga Bugi? è un nome che ci hanno dato quindi fans di Liga Bugi perché vi chiamate Bugi? ciao facciamo un tributo a Liga Bugi quindi Bugi che fa tributo a Liga Bugi a Liga Bugi è la quarantesima edizione della Fiera delle Pere perciò è anche una ricorrenza importante e questo è un grande onore per i Renazzesi che si sono anche qui avvicendati in vari gruppi che sono cambiati però riuscire a mantenere una manifestazione di questo tipo così importante per 40 anni è sicuramente una cosa veramente da sottolineare inoltre quest'anno la fiera torna pienamente in piazza dopo il terremoto e il percorso ritorna a essere quello un po' più storico dove si parte dalle scuole medie con le giostre c'è tutto il percorso degli esterni dispositivi fino alla parte dopo il semaforo verso le scuole elementari dove ci saranno le sfilate, basker, musica, gastronomia ci sarà per tutto il percorso della fiera tantissimo spettacolo e tantissimo intrattenimento da considerare che gli espositori sono oltre 50 quindi anche dal punto di vista del commercio è sicuramente un bello slancio e poi ci sono una serie di spettacoli stasera partiamo con Ligabusi domani sera c'è un altro spettando le fiere con un altro concerto ci sono concerti tutte le sere fino a lunedì ci sono delle iniziative nuove si premieranno le associazioni che a Renasso ce ne sono almeno 25 quindi anche in questo siamo un bel primato per cui tutte le sere ne premieremo alcune e poi ci saranno varie iniziative tipo tavole rotonde sul futuro della pera, l'agroalimentare tante 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 cose che man mano riusciremo a dire anche stasera durante la presentazione perché ce ne sono veramente tante è un'edizione molto ricca quindi una festa della pera per tutti i gusti si può dire per rimanere in tema assolutamente per tutti i gusti bambini, adulti, grandi, giovani, nonni chiunque, famiglie, giovani addirittura abbiamo anche la zona giovani a proposito all'adolesia ricreatorio con il beer garden che lì saranno spettacoli musica, pub fino a tardanotte per cui in ogni angolo di Renasso torneranno esserci degli spettacoli come c'è stato non devo anche far salutare Marco il nostro sponsor della serata stasera il concerto di Ligavusi è offerto dal Fascino Caffè quindi lo ringraziamo tutto grazie a te, grazie a te